Bruno Editore presenta Money Management per il Forex Come impostare un'operatività che garantisca la profittabilità nel lungo periodo Di Daniele Angelotti Introduzione Non c'è alcun dubbio che il mercato del Forex rappresenti una realtà assolutamente attraente per molte persone. Come però tristemente noto, sembra che le stime dei trader perdenti siano piuttosto pesanti. Al di là del dato in sé, chi si avvicina al trading ha bisogno di comprendere l'ambiente in cui intende operare, così come quando si avvicina per la prima volta a una qualunque attività che non conosce. Il Forex coinvolge molteplici aspetti della vita. Il lato emotivo, in primo luogo, il lato caratteriale, il rispetto e la cura per quello che si sta facendo e lo stile di vita stesso. Essere profittevoli nel Forex e farne una professione o comunque uno strumento per migliorare il proprio stato economico non è così semplice come si vorrebbe far credere. Ma con le giuste armi e la giusta conoscenza è possibile capire molto di se stessi e iniziare a guardare al trading con occhi completamente diversi rispetto al passato. Impostare un piano di trading vero e proprio con tutte le accortezze del caso è il primo passo per diventare professionisti del Forex e per cercare di aspirare a grandi obiettivi. È necessario considerare il trading come una sorta di impresa di cui si è irresponsabile. Non bisogna dimenticarlo. Attraverso il trading sul Forex è possibile ottenere tanto, davvero tanto, ma bisogna essere disposti a comprendere i giusti strumenti e gli aspetti davvero essenziali per operare. Il money management e la gestione del rischio sono alcuni di questi e renderanno il trading un'attività redditizia e solida con la quale puntare alla tanto desiderata libertà finanziaria. Senza di essi non si può dire davvero di avere il controllo su quello che si sta facendo e probabilmente non si riuscirà ad andare avanti nel lungo periodo. Ovviamente il Forex rappresenta soltanto uno dei possibili ingredienti per uscire dalla nota corsa del topo. Ma siamo sinceri, si tratta di una delle attività più stimolanti in assoluto per ciò che offre e per le possibilità che ci mette di fronte. Grazie a tutti.